È un risultato importante, molto eloquente, sono cifre pesantissime che ci investono di una responsabilità altrettanto pesante. So che ci aspetta un impegno impegnativo, in qualche misura un recupero in molti aspetti che hanno assunto criticità nel tempo. Sicuramente ho una squadra molto affiatata, con persone validissime all'interno, che sapranno ben coagliugare la mia azione amministrativa. Si tratta di un'esperienza nuova, ma non nuovissima. Mi riferisco al fatto che nel passato ho ricoperto per dieci anni la carica di sindaco, permanendo all'interno del gruppo amministrativo per 25 anni. Quindi una responsabilità grave, che però è anche motivo di gioia, perché questo mio impegno, questa mia disponibilità che ho reso alla popolazione è stata accolta in maniera molto ampia e molto significativa. E quindi il nostro impegno sicuramente ha il conforto di un larghissimo sostegno. Grazie. 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 Grazie.